ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi come esattamente un anno fa torniamo su virtual manager 2022 ringrazio sports interactive per aver notato il canale e anche quest'anno avermi fornito il gioco per poter portare quelle che sono le novità il mio non è un canale basato sul calcio non è un canale basato su questi giochi che non sono indie ma sembrava comunque doveroso mantenere questo impegno perché mi hanno dato fiducia e devo dire ho iniziato già a giochicchiarlo un pochino non tantissimo perché sono al 26 luglio quindi sto iniziando con la catena di amichevoli estive ho notato che comunque il gioco è un pochino cambiato allora inizio col dirvi alcune cose riguardo a adesso io ho preso l'inter però non state lì io sono un tifoso molto sportivo quindi avrei potuto prendere qualsiasi qualsiasi cosa hanno aggiunto una nuova diciamo una nuova un nuovo ruolo che per i difensori è comunque una novità che questo difensore che si adatta il centrale che si adatta alla difesa trae mentre prima non c'era questa è una delle novità ma le novità principali sono nel motore grafico e a breve andremo a vederlo perché abbiamo un amichevole contro la juventus ma soprattutto il centro dati e le riunioni nel senso che il centro dati ci permette di risalire tutte le informazioni a livello di giocatori a livello di squadra a livello di tutto per poter analizzare poi come come andare ad agire insomma possiamo settare in questo caso io ho delegato l'analisi delle prestazioni a uno staff potrei farlo io stesso o delegare qualcun altro in sintesi ci verrà suggerito molto più spesso e molto più dettagliatamente gli interventi da effettuare a livello di erosa a livello di tattica a livello di tutto insomma un'altra delle novità che sono state introdotte e poi lo vedremo andando avanti sono le riunioni perché le riunioni se le reputavate tediose negli anni scorsi sappiate che adesso sono un po più piuttosto però vi forniscono maggiori informazioni se non amate questa cosa delle riunioni il gioco probabilmente non fa per voi incontro settimanale con lo staff ok si parteciperà alla riunione ok vedete che qua ci sono un sacco di persone collaboratori in attesa di darci dei consigli tra l'altro cosa molto interessante che ho fatto me l'ha suggerito lo staff mi ha detto guarda a te manca l'allenatore della squadra under 18 ci sarebbero questi nomi qui io ho guardato i nomi e ho fatto un balzo perché cavoli ho detto cavoli il grandissimo del calcio italiano poi c'è il mio nome il grandissimo del calcio italiano è disponibile quindi lo assumiamo adesso sto cercando di vedere se ve lo trovo perché voglio ok allora l'allenatore dell'under 18 è niente po po di meno che scusate non l'allenatore in seconda dell'under 18 è Gianfranco Zola si è proprio lui che vedete quanto è dettagliato lo conoscono anche in inghilterra e lui conosce l'inghilterra insomma quindi ecco andiamo alla riunione ah tra l'altro io ho installato una mod che trovate su internet cercate per far comparire i nomi giusti vedete che qua chiama juventus e non zebri anche i nomi delle squadre brasiliane francesi l'ajax si chiama nel modo corretto e la nazionale giapponese se non ricordo male non ha i giocatori adesso vengono aggiunti insomma due minuti da cambiare due file nell'editor allora è tutto gestito così nel senso anche quando fate le conferenze vedete chi parla col fumettino sotto allora siamo nella fase allenamento massimiliano faris che l'allenatore in seconda mi dice credo che akhan shalanoglu dovrebbe battere i rigori vabbè aggiungilo ed in zeko dovrebbe battere lo aggiungo e anche denzel danfris va bene va bene andiamo avanti ok è già andato avanti vedete che si riempie man mano questa cosa dell'allenamento dice dovrebbe battere i calci di punizione va bene ma lo devo fare dopo questo però va bene programma per dopo l'incontro no va bene anche i calci d'angolo va bene il programma per dopo l'incontro così ce lo ricordiamo andiamo avanti siamo passati appunto a sviluppo e dice per sempre massimiliano faris dice uberti è pronto per entrare nell'andare 20 facciamolo entrare cioè sono cose che se andate a leggerle settimana per settimana vi aiutano tanto allora dice che bastoni abbia il potenziale per diventare un giocatore forse raggiungendo forse milan scranian e difensore sì queste sono cose di per cui non abbiamo però un a cosa da fare però insomma abbiamo un dato in più martin satriano un giocatore potrebbe arrivare a giocare in correa non è che ci voglia molto anche gabriel brazzaro che è un portiere potrebbe superare il livello di radu però sappiamo che radu è una riserva quindi va bene andiamo avanti siamo lo staff e tutto questo per farvi vedere quello che si può fare qua ci dice ci dà un suggerimento sullo staff che si potrebbe assumere vedete qua c'è analista delle performances e anche per l'under 20 insomma sono tutte cose che posso programmare per dopo l'incontro va bene abbiamo concluso questo è il riepilogo abbiamo aggiunto come rigorista abbiamo aggiunto tiratori calci d'angolo ok ce l'ha già fatto e poi abbiamo già chiesto queste persone di entrare va bene accetto e vado avanti venendo con lo staff azioni di follow up in seguito al nostro incontro semimanale ho raccolto la seguente lista di informazioni ok abbiamo fatto questo hanno aggiunto fondamentalmente questo poi adesso andremo a vedere la partita perché hanno ritoccato anche il motore grafico e soprattutto tiene conto molto di più di la precisione come parametro quindi ci saranno molti più sbagli soprattutto pare pare parebbe che il var adesso mentre nelle edizioni precedenti dava fermava dava conferma e confermava sempre potrebbe anche smentire cioè non confermare sempre dava sempre la stessa decisione adesso non ricordo c'era il dubbio su un ipotetico rigore e il rigore veniva sempre concesso e anche su fuori gioco veniva sempre dichiarato fuori gioco adesso ci sarà un po più di dubbio ora abbiamo questa cosa che è abbastanza lunga e ve la evito praticamente abbiamo una riunione sugli acquisti quindi ci sta analizzando una serie di giocatori che potrebbero essere importanti futuro acquisto un acquisto superbe il futuro insomma l'abilità possiamo scegliere se metterlo nella lista dei selezionati che ci resta sempre lì impostare però questo appagamento per la squadra di visionare il giocatore e se permette la x invece non vi verrà mostrato più nulla di questo gioco questo di questo giocatore questo diciamo che non mi interessa whistle no camarano mi serve un portiere questo un attaccante francese acquisto superbo io dico lo metto qui e osservo e vabbè dovremmo dovremmo andare avanti insomma ce ne sono un bel po perché prendendo su squadra mercato ho appena fatto una riunione in cui mi proponevano dei nomi per ogni ruolo visti che visto che alcuni giocatori se ne potrebbero andare a breve uno sto già trattando ma non vi dico nulla basta poi altre cose che hanno aggiunto la cosa adesso io salto questa cosa perché siamo presi in enze di video altra cosa che hanno aggiunto sono gli agenti gli agenti c'erano già ma adesso gli agenti ci chiamano e possiamo chiamarlo gli agenti quindi vogliamo un giocatore chiamano la gente detto cosa dovremmo fare per convincere loro potrebbero lui potrebbe dire contattate la squadra di te di che oppure il giocatore è interessato però la squadra dice che ecco anche questo e l'ultimo giorno di mercato saranno loro a cercare di riguardare il mio assistito sta cercando squadra assolutamente e quindi avremo bisogno di trovare una squadra la squadra vuole questo lo hanno cestinato insomma e va bene allora adesso abbiamo un po di sono rientrati tutti dalle nazionali quindi inizio a metterli prima in panchina poi decidiamo c'è anche il povero ericsson che è comunque in panchina no non è in panchina in tribuna ed è fuori per un anno per mettere se sono presi tempo per vedere poi dove giocherà se giocherà e niente barella e martin sono ancora in vacanza ho sbagliato io mi è piaciuto molto satariano bel giocatore dico anche nel caso in cui qualcuno di voi volesse giocare a football manager e volesse appunto reclutare questo giovane la squadra è abbastanza definita ci giochichiamo così si usiamo questo nuovo ruolo e va bene andiamo avanti c'è l'amichevole tutorial del centro medico non mi interessa io ho delegato tutto perché non faccio nulla di questo nell'allenamento lo faccio fare ai giocatori tra l'altro un'altra cosa molto bella che è stata aggiunta nelle nelle trattative potete fare anche abbastanza un tiramola con la dirigenza nel senso la dirigenza vi dice di no e voi gli dite ma no c'è la possibilità di accettare la loro decisione di minacciarli e o di convincere ci sono diverse possibilità di dialogo per poter parlare con con la dirigenza ovviamente ecco qua se ne sta andando un giocatore però scadeva a fine anno e mi servono soldi quindi io accetto e voglio portare in squadra un ok qui arriva una domanda rispondo alla domanda partenza suscitato preoccupazione per i sostenitori come fare a tranquillizzarli e qua potete scegliere vedete negativo ci vuole un filo di fiducia io do questa risposta chiudo ok e allora io ho un progettino comunque è stata bellissima all'inizio dell'anno la riunione di squadra perché si poteva veramente scegliere una quantità di risposte superiore a tutti i precedenti football manager quindi si poteva andare a parlare dell'argomento che si voleva quindi questa è una cosa molto molto carina allora io ho una cosa da fare perché io ho un giocatore che mi piacerebbe molto comprare è iuri alberto che è un brasiliano io arrivo dalla generazione di ronaldo il fenomeno e quindi cerco un brasiliano per la mia squadra abbiamo incassato i soldi di brosovic e quindi vediamo se riusciamo prima la dirigenza mi ha fermato la transazione insomma la cosa interessante veramente interessante è che per quanto io sto facendo l'inter per quanto si parla di problemi economici trasparono anche qui perché comunque sono tutti attenti attentissimi vogliono farlo stadio è vero perché ce l'ho tra gli obiettivi ma si vede che stanno contando proprio tutto 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 e non mi fanno passare niente io adesso vorrei dato che questa è una clausola recessoria di 80 milioni ma io lo voglio lo voglio subito a 25 milioni ha ritenuto accettabile manifestare compiacimento ok 25 milioni speriamo che la dirigenza non mi fermi e per sostituire brosovic useremo qualcuno che abbiamo in casa l'internazional ha richiesto che rimanga in prestito questo non mi era mai successo è un giocatore marginale assolutamente no ha rifiuto il prestito io lo voglio subito io ho chiesto fiducia minchia ho applicato la mia foto ma veramente è una roba mostruosa diciamo il riconoscimento facciale non è proprio un gran che allora ora io e alberto interessato possiamo mandare il nostro amministratore insomma delegato oppure marginale per noi forse meno per loro vabbè avvia negoziati parlo io ci parlo io ci penso allora ti darò un elemento no riserva di lusso iniziamo da domani da subito inizi suggerisco promesse contrattuali queste ti piacciono ok finalizzo le promesse vediamo un attimino il contatto vediamo speriamo non ci chieda troppo no non chiede neanche tanto chiede un milione circa per anno un bonus alla firma commissione per la gente vabbè sì fino a 2025 proviamo 2026 un anno in più gli diamo 53 mila euro vedete ci sono i nomi anche giusti delle non è coppa campioni ma è champions league aumento di stipendio il 10 per cento ci può stare vuole uno stipendio di facciamo così io ti elimino questa e ti do dopo 20 partite ti do un milione e mezzo ok sembra contento dell'esito delle trattative va bene possiamo assumere due extra comunità in l'anno quindi ci sta e dovremmo esserci speriamo arrivi prima della 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 michevole vediamo se sbarca sì abbiamo partita con la di ventus formazione consigliata ci propongono questa vedete volete scegliete voi insomma mi mette vessino a centrocampo sensi d'ambrosio screener io voglio fare un po' di testa mia all'inizio vi fa settare anche la tattica vediamo se riusciamo ad aggiungere questo giocatore qui cavoli satariano però non so se darlo via o meno perché mi arriva l'altro è vero che abbiamo anche l'altro voglio dargli una possibilità ancora rimando perché satariano mi ha fatto una doppietta ho fatto male anche 3-5 giorni io vado veloce perché ormai ne so qua altre altre cose bisognerebbe un po' metterli un po' a riposo questi questi osservatori perché continuano a mandarmi altri 41 rapporti di giocatori offerte dell'agente vedete qua sono gli agenti che offrono a noi il giocatore questo 24 anni Davis va a 35 Regulion del Tottenham costano vi dice anche quanto ma non cioè Marez ha quasi 100 milioni non mi interessano adesso quello me le devo spulciare tanto vi restano non abbiamo ancora completato il trasferimento di il giocatore io voglio Alberto che deve firmare il contatto quindi si andrà prossimamente alla prossima partita poi ovviamente se vi piace volete che vi porti un altro video in cui vi faccio vedere come rende il mio nuovo acquisto volentieri mettiamo Vessino al centro con Cialanoglu che fa il regista avanzato in supporto anche lui però è un regista un incontrista se la cava bene si è il ruolo di Brozovic di Marco però mi servirebbe che mi facessi un po' tutto quindi devo metterti automatico perché mi serve anche che difendiate assolutamente perché devono tornare a difendere se no prendiamo gol Scrinia non sta benissimo però non abbiamo credo bastoni disponibili cavoli qua mi continua a spostare credo che bastoni non sia no è ancora in vacanza cioè tornano il 2 di agosto sti vacanzieri 3 giorni 4 giorni ancora Damian si dai anche Perisic non è tornato però cavoli abbiamo Vidal cavoli Vidal è male come è messo di forma così non sta proprio benissimo di forma quindi lo faccio aumentare secondo tempo mettiamo spazio anche a Collidio in sta partita iniziamo e andiamo andiamo sì questo è un riassunto di quello che pensano i giocatori la tattica è nuova quindi bisogna un pochino adattarsi ok e inizia qui ci suggerisce il vice ma è quello che direi anch'io andate e rendetemi orgoglioso e benvenuti benvenuti amici sportivi a questa amichevole estiva di Inter contro Juventus qui abbiamo la formazione Ken e Dybala davanti con non riesco a leggere e si parte 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 vediamo adesso ho messo le azioni chiave quindi il gioco prosegue da qua si può poi urlare come l'anno scorso alla squadra si possono dare istruzioni specifiche e qua poi il tipo di mentalità le tattiche sostituzioni e qua la reazione di ogni giocatore l'umore insomma il loro stato vediamo il motore grafico è stato rivisto nel senso che adesso i giocatori azzardano più giocate non sono più quei movimenti sono sempre comunque piuttosto legnosi però sono un po' più imprevedibili rispetto a prima e ci sono anche grossolani errori di passaggio quando la precisione è bassa insomma è reso tutto molto meglio Satriano ancora Satriano lo voglio tenere osservato vedete che hanno sempre questa cosa che non è mai stata risolta in cui il pressing lo fanno ma in modo molto schematico cioè stanno lì attaccati e ad un certo punto la palla la portano via quindi questo vabbè però quello che conta sono i passaggi il tipo di scambi che fanno vedete qua ha sbagliato non si sono intesi però riprende vediamo la cosa la più grande novità del gioco è un qualcosa che mi sa che non va in prestito sto tizio la cosa più rilevante nel cambio perché tutti dicono vedo tanti che dicono non è cambiato niente sì sulle come adesso non c'è niente di nuovo visivamente ci sono menu nuovi menu la struttura delle interviste degli agenti delle contrattazioni è diversa ma per chi non è attento non è cambiato niente ma credo che la cosa che sia cambiata di più in questo gioco è il fatto sì posizione regolare non fatemi prendere un colpo la cosa che cambiate di più è soprattutto invisibile nel senso che diventa sempre di più anno dopo anno full tool manager un qualcosa che vi consente di trasformare la vostra partita in una partita unica cioè voi avete 11 varianti variabili in campo che sono i vostri giocatori in più la panchina che avete comprato voi hanno delle statistiche loro hanno decine di statistiche ognuno di essi ed è impossibile avere un gameplay uguale cioè non è un gestionale di un parco dove fate meno male quelle cose e sapete come fare e riuscite sempre dopo qui potete inculcare la vostra mentalità di gioco ed è l'unico gioco che vi consente di farlo dite io a me piace giocare con la squadra che fatichete a cala barcellona oppure voglio un gioco in contropiede totale lo fate date ogni istruzione ai giocatori che lo fanno poi dovete essere bravi ad analizzare le statistiche di ogni di ogni giocatore se è in grado di fare il gioco che voi volete e questa è la figata che stanno aumentando potenziando anno dopo anno questa è un'analisi della partita direi che non è andata malissimo pensiamo in vantaggio però io farei un cambio metterei D'Ambrosio non sto neanche lì a cambiare il ruolo D'Ambrosio in difesa cambiamo Vecino che è ammonito ci mettiamo Arturo Ivan Perisic lo possiamo mettere al posto di Marco e poi ci mettiamo un Facundo Colidio al posto di Dzeko andiamo a determinare i ruoli Colidio potresti farmi la punta completa in supporto Perisic mi fa l'automatico potrebbe essere più offensivo di qua ma mi serve che faccia anche attacco difesa sono spremute tante le ali su questo ma è una squadra fatta per giocare così quindi non posso neanche azzardare altano e credo che un Alexis Sanchez lo si potrebbe far giocare ma in realtà mi piacerebbe liberarmi anche del suo stipendio dire la verità possiamo cambiare anche Stefan De Vrij ci mettiamo Kolarov ma credo che Kolarov non sia una cima in mezzo no invece sì invece potrebbe giocare non può fare questo no ok no niente allora non è sufficiente assolutamente non accettare no mi piace quello che sto vedendo dai un bel esempio di precampionato dai andiamo per il secondo tempo gli do due istruzioni iniziamo iniziamo gli incoraggio la squadra intera vai date anche perché non abbiamo riserve non è che posso fare grandi cambi adesso Kulusevski in mezzo erano occhi indietro per dire sono in rotta anche con il mio portiere perché comunque con l'età che ha a prendere 6 milioni meno che sti 7 per arrivare in nuovo e gli ho detto cala cala che hai la tua età anche tu e quindi boh vedremo vedremo come andrà adesso la gente ha chiuso le trattative quindi vedremo vediamo quest'anno siamo a posto l'anno prossimo vediamo ci sarà un pochino da rifondare alcune cose l'anno prossimo e soprattutto adesso che non c'è Brozovic però vediamo stiamo sfinando bene la Juventus attenzione Colidio Colidio davanti a Scesni la parata però la riprende questa è stata una svista pazzesca Akann Cialanoglu non ce la fa Cialanoglu Colidio Colidio in mezzo verso Darmian Darmian la dà in mezzo intercettata la riprende il buono no che l'ho anticipato da Ken ma qua probabilmente l'azione non si è conclusa con successo scusate ma io mi faccio prendere dalle telecronache allora il motore grafico non si grida certo al miracolo di sicuro è un po' più fluido ed è un po' più vario come azioni che si vedono non mi è ancora capitato il VAR che mi nega qualcosa o dà qualcosa rispetto a quello che faceva sempre uguale nella versione precedente questi sono i suggerimenti ci dice dovremmo pensare di cambiare Danfries con Sensi scusa cos'è che vuoi fare signora scusami vuoi fare entrare Danfries che è un può entrare Damian Danfries ma ha Sensi e deve giocare per forza cioè adesso un golo che lo pago se stanco gioca poi lo stesso cioè Danfries vuole farlo giocare perché voglio capire che tipo di giocatore è 25 anni vediamo vediamo cosa succederà tanto siamo ancora 1-0 siamo all'89 al 90 vuole far entrare Alexis Sanchez al posto di quello che dà più soddisfazioni il calcio d'estate d'agosto di luglio dà sempre grandi soddisfazioni ma poi la batosta arriva alla prima di campionato dove hai battuto tutte le tue rivali d'estate ma di quando inizia non non c'è allora io onestamente voglio dare un'occhiata abbiamo l'ultima Michaevole a luglio contro il Crotone e la cosa bella che poi non tutti magari lo sanno è che potete andare a spulciarvi questi social in cui vedete poi ovvio deve esserci in medesimazione da parte vostra potete vedere la reazione dei tifosi capi delle tifoserie insomma a tutto quello che fate un piccolo intrigo questo qui dice abbiamo giocatori meno carismatici in Erosa complimentoni a tutti eh si sono arrabbiati perché ho fatto questo questa cessione però a me servivano i soldi per il mio brasiliano io e Alberto in procinto firma occhio sempre a controllare quando si unisce perché magari a volte sfugge e vi arriverà un anno dopo accetto molto bene colpo di mercato lo mando a un corso di lingua intensivo perché all'inizio non parla in italiano e si vede la differenza poi vedremo qua mi da solo una stellina al momento però vedremo io chiedo ad Andano decidere il benvenuto ok e poi modifica il programma d'allenamento visualizza il programma originale posso aggiungerlo alla rosa del si della ritiro si perfetto poi vedete che potete andare a modificargli l'allenamento e proporlo proporgli di allenarsi magari per un ruolo diverso quindi adesso lo andrò a provare in in campo adesso mi mancano ancora parecchi titolari quindi contro il crotone giocheranno più o meno gli stessi per intanto io da football manager 2022 è tutto il gioco costa 49,99 su steam ovvio non è cambiato tantissimo sono cambiate cose sotto strutturalmente sotto sta diventando sempre più completo è carino secondo me il cambiamento che hanno fatto quest'anno è superiore rispetto a quello da magari 2020 2021 hanno avuto anche più tempo quest'anno di lavorare rispetto all'anno scorso quindi ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video game play alla prossima ragazzi ciao 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 ciao